Maiorino, mi riallaccio alle considerazioni che faceva Riccardo Barenghi quando guardava anche all'altro campo politico, quello del centro-sinistra. A destra litigheranno, però l'unità è un dato di fatto. A sinistra non solo l'unità è da costruire ancora tra PD e Movimento 5 Stelle, ma i due partiti devono cercare una loro identità in una dinamica di, sembra, competizione quasi tra Letta e Conte. Buongiorno a tutti, intanto a me fa sorridere partire dicendo che il centro-destra sia unito. È diviso il governo, non riesce a esprimere i candidati sindaci nelle città. In realtà il centro-destra oggi si trova in una situazione assolutamente inedita rispetto a questi anni, anche perché la Lega soffre molto la concorrenza di Giorgia Meloni. Questo è un dato di fatto, lo dico quasi così, da osservatore evidentemente, non altro, però è una constatazione evidente. Però è una constatazione, Maiorino, che nelle città e nelle gran parte delle regioni governano uniti. Bisogna fare anche questa considerazione qua. Sì, però io credo che questa sia una constatazione oggettiva dal mio punto di vista. Poi in alcuni casi nelle città fanno fatica anche a trovarli perché hanno difficoltà a mettere in campo candidati competitivi rispetto a sindaci. Cito evidentemente Milano, Beppe Sala, che sono molto popolari in città, piaccia o meno, e che quindi partono pure in una condizione nella quale sappiamo benissimo che il confronto sarà in ogni caso complesso, tosto, eccetera, però partono con un dato di consenso. Perché non dirlo? Ci sono degli, in alcuni contesti, la situazione nasce anche da questo. Io credo che il centro-sinistra debba andare avanti nella sua fase di rilancio e ricostruzione, che il Movimento 5 Stelle debba andare avanti nel suo percorso di ridefinizione, di priorità, di carattere programmatico, di figure, regole, insomma tutto il lavoro che stanno facendo, e che il PD pure debba non accontentarsi della condizione attuale, e cioè dell'essere stati molto seri e responsabili a sostegno del governo Conte, molto seri e responsabili al sostegno di Draghi, penso che dobbiamo andare avanti. E come diceva però Barenghi, ribaltando Andreotti, il potere logora chi ci ha e chi per responsabilità decide di contribuirvi, Mariorino. Ma forse, ma questo non lo so, io diciamo non sono così raffinato come Barenghi, però dico solo che forse dobbiamo accentuare un tratto che è quello di essere ancora più netti e radicali, io dico personalmente, su alcune questioni, ad esempio il salario minimo, ad esempio il fatto che le multinazionali paghino le tasse. Ci arriviamo, ci arriviamo, perché vedo che i politici amano prenderla alla larga, arrivare alla risposta all'ultimo, così mettono dentro tante questioni. Se presudiamo...